un saluto agli amici della casa chiave di milano oggi abbiamo fatto una chiave nuova per suzuki jimmy diamo se apre chiude perfetto vediamo se pizza pizza non pizza pizza atti nella sacoccia fatturiamo perfetto chiavi suzuki jimmy milano casa della chiave number one ma 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.